Allora, c'è l'inquadratura storta Il cosa che si abbassa Mi devo comprare un treppiedi nuovo Sono qui a spiegarvi come ho ricevuto il Tab A2019 gratis La nostra lavatrice ci stava dando un po' di problemi Andando a curiosare sui volantini di roba elettronica Abbiamo trovato una lavatrice Vicino a questa lavatrice ci davano anche questo Il Tab A Non è la prima volta che noi compriamo un prodotto E ce ne danno un altro vicino Perché noi quando avevamo comprato il computer Ci avevano dato Google Home Mini vicino Abbiamo dovuto solo aspettare due giorni Che gli arrivava Google Mini nel negozio Mentre per il tablet è stata diversa la cosa Perché il codice che ci metteva la registrazione A questa promozione per ricevere il tablet Era dentro la lavatrice Abbiamo dovuto aspettare più o meno una settimana Che ci arrivava la lavatrice E finalmente abbiamo dovuto fare questa registrazione Allora, però per fare questa registrazione Dovevamo registrarci prima ad un'applicazione Che si chiama Samsung Members Essendo già registrata a Samsung Dovevo accedere solo alla promozione Accedendo a questa promozione Dovevo mettere appunto il codice che si trovava Proprio all'interno della ricerca Nello blog Abbiamo messo questo codice E diciamo abbiamo avuto un po' di problemi Abbiamo chiamato quelli della Samsung Per vedere se potevano dare informazioni E come si poteva accedere a questa promozione La tizia ci ha detto che ci arrivava dopo sei mesi Che poteva arrivarci anche prima Infatti è così stato Ci è arrivato dopo due mesi Adesso ve lo faccio vedere Allora, premetto che queste cose le ha fatte sempre mio fratello Quindi per me è la prima volta Allora, il tab si presenta così E queste sono le caratteristiche Adesso lo apriamo Ed eccolo qui Tutto sporco giustamente Perché l'ho appena usato Questo è come si presenta avanti Questo è indietro Tutte le mie manate bellissime Ed è opaca Accendiamo Mi vedo io là dentro Ciao E la password è privata Allora, così è come si presenta Vanno 29 gradi oggi Anzi, non è nemmeno un massimo l'università Vabbè, tutte le cose Il menu Ci abbiamo scaricato due giochi Invece Spotify è uscito già Molto carino Utile Se vuoi giocare Per non riempirvi Il telefono Di roba inutile Quindi Io lo uso così Ah, e non ho detto Che si potrebbe usare anche come telefono Ed io Non sapevo che si poteva utilizzare anche come telefono Qui è il jack dove si mettono le cuffie Anche se non si vede Non riesco a farlo vedere Ecco qui Il jack per la cuffia c'è Ma non sono uscite le cuffie Spoiler Allora C'è un normalissimo caricatore E il cavo Quando le cose sono nuove Mi piacerebbe mettere come mi sono uscite Quindi l'ho messa io qua dentro Proprio come stavano Poi vediamo un po' Ah, giustamente Ho dato anche questo per mettere la sim Anzi, adesso apriamo Vediamo Qui sono i pulsanti Eccolo qui Ecco qui Devo comprargli la cover Assolutamente Perché non posso tenerlo sempre nello scatolo Io e la hop Vi salutiamo Guarda lì Ciao